L'estate si avvicina ed insieme a lei sta per tornare anche Temptation Island, il reality show di Maria De Filippi condotto anche in questa seconda stagione da Filippo Bisciglia. Cominciano anche a trapelare le prime indiscrezioni relative ai concorrenti dell'edizione 2015. Entriamo allora nel dettaglio grazie alle nostre anticipazioni. Nel cast di Temptation Island 2015 dovrebbero esserci anche Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo, protagonisti del trono classico di Uomini e Donne nella prima parte di stagione del People Show ideato e condotto da Maria De Filippi. Quella formata da Teresa e Salvatore è una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. I due sono stati protagonisti indiscussi della prima parte di stagione. Teresa ha scelto Salvatore, suo conterraneo, preferendolo a Fabio, attualmente sul trono del People Show di Maria De Filippi. Da buoni siciliani sono entrambi decisamente gelosi. Teresa ha un carattere piuttosto spigoloso, la cui ruvidezza è emersa platealmente nel viaggio post-scelta della coppia. Addirittura ha definito un incubo dalla stessa Maria De Filippi. Sono passati cinque mesi dalla scelta, Teresa e Salvatore hanno imparato a conoscersi e nella loro ultima apparizione a Uomini e Donne hanno rivelato alla conduttrice di aver deciso di andare a vivere assieme a Roma. Tentation Island sarà un banco di prova molto duro per entrambi. Insieme a loro un'altra coppia che potrebbe sbarcare in Sardegna è quella formata da Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, ma in questo caso non ci sono ancora confermi.